Salva guardare i servizi e la qualità delle prestazioni erogate per tutti i cittadini e tutto il territorio regionale. È questo l'obiettivo che la regione sta portando avanti attraverso l'innovazione tecnologica, strategie di prevenzione e una profonda riorganizzazione del sistema sanitario toscano. Ce ne parla l'assessore alla salute, al sociale e allo sport Stefania Saccardi. Ci sono altri che hanno ritenuto di poter abbattere le liste d'attesa semplicemente aumentando l'offerta di diagnostica e di specialistica sul mercato. Noi abbiamo invece ritenuto di dover lavorare sui percorsi, cioè sulla domanda, cercando di suddividere le richieste di diagnostica e di specialistica secondo percorsi specifici e secondo il principio della presa in carico del cittadino. Per cui per esempio gli aiuti point a cui lei faceva riferimento sono i percorsi che noi abbiamo individuato per dare una mano al malato oncologico, il quale può trovare negli aiuti point che sono collocati presso i cord, dove la persona è abituata a rivolgersi per la cura della propria malattia oncologica, troveranno lì anche il luogo dove possono essere prenotate le visite di controllo, gli esami diagnostici e troveranno anche, abbiamo fatto su questo un accordo con le organizzazioni sindacali e anche le informazioni che riguardano tutta la parte amministrativa, delle pratiche amministrative inerenti i bisogni e le necessità dei malati oncologici, dal permesso per l'accesso al ZTL fino ai permessi per il lavoratore, per il malato lavoratore. Da un lato quindi gli aiuto point, dall'altro lato appunto lei citava la sanità d'iniziativa, l'accordo con la medicina generale è indispensabile per gestire le malattie croniche che sono oggi purtroppo malattie in aumento, pensiamo alle problematiche respiratorie, alla VPCO, al diabete, pensiamo alle malattie cardiovascolari che devono essere seguite sul territorio attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale e questo è il senso dell'accordo sulla sanità d'iniziativa che abbiamo sottoscritto. Secondo il principio anche del dove si prescrive e si prenota, cioè noi vogliamo andare ad abbattere le liste d'attesa a semplificare la vita dei cittadini con i CUP proprio cercando di spostare i luoghi della prenotazione nei luoghi dove c'è la prescrizione, quindi il cittadino che esce dallo studio del medico di medicina generale dovrebbe riuscire ad avere, ad uscire non tanto con una prescrizione ma proprio con la prenotazione già pronta sotto il controllo della medicina generale o dello specialista. Abbiamo fatto una serie di delivery sul tema dell'emergenza urgenza fortemente innovative perché ci rendiamo conto che il punto primo dove i cittadini arrivano quando si trovano in una condizione di difficoltà e il pronto soccorso e l'immagine che hanno del sistema sanitario molto spesso passa dal pronto soccorso. Quindi abbiamo fatto una serie di delivery per riorganizzare la modalità con cui il pronto soccorso oggi si deve muovere, deve lavorare, cambiando anche i codici di priorità da codici colore diciamo così a codici numerici ma naturalmente non è questa la novità. La novità è quella di strutturare il pronto soccorso proprio secondo percorsi in base ai bisogni e alle necessità dei pazienti cercando di limitare il più possibile i tempi di attesa dei pazienti senza avere notizia o senza essere presi in carico in una sinergia tra pronto soccorso ed il resto dell'ospedale anche costituendo e dando maggiori responsabilità per esempio attraverso il see and treat al personale infermieristico e cercando quindi in questo modo di organizzare meglio il percorso del paziente all'interno del pronto soccorso soprattutto in momenti nei quali ci può essere la maggior affluenza perché magari c'è il picco influenzale o alcune situazioni particolari. La tecnologia ha avuto ed ha un impatto enormemente importante sulla medicina ma ha bisogno naturalmente anche di una forte regia regionale perché si tratta di tecnologie che hanno anche bisogno che sono anche molto costose che hanno bisogno di essere programmate per essere collocate laddove vi sia la casistica, la possibilità di formazione e anche le capacità di utilizzarle. Ma certamente noi siamo la regione nella quale vi è il maggior numero di sistemi di robotica applicata alla chirurgia. Qualche giorno fa abbiamo inaugurato delle nuove sale di chirurgia robotica all'ospedale Cisanello di Pisa, abbiamo inaugurato un robot opedico all'ospedale di Careggi che però serve tutta l'area vasta, serve anche l'azienda territoriale e la logica con la quale noi vogliamo introdurre queste nuove tecnologie è proprio questa, quella di non essere al servizio di qualcuno ma di essere al servizio dell'intero sistema in modo da essere un'opportunità per tutti i professionisti e anche non appartenenti a quell'azienda ospedalea universitaria e di essere naturalmente anche un'opportunità per tutti i cittadini in qualunque parte della regione si trovino. Lo abbiamo legiferato in questa materia ma è in Regione Toscana il luogo dove attraverso la collaborazione con l'Istituto Farmaceutico Militare la cannabis per uso terapeutico si produce e si prepara. Quindi direi su questo la Toscana è stata aperta la strada poi alla normativa nazionale che è intervenuta su questo fronte e ha fatto una norma in tempi nei quali forse nessuno ci credeva ma oggi invece la cannabis terapeutica è considerata uno dei rimedi più importanti su tante patologie, sulla cura del dolore o su tante altre tematiche. Stiamo anche lavorando per fare un'attività di formazione ai medici, anche ai medici di medicina generale, per consentirgli di conoscere le proprietà e l'utilizzo della cannabis in modo da diffonderne ancora di più non solo la conoscenza ma la possibilità di utilizzo a fini anche molto importanti anche in relazione a molte patologie oncologiche. Noi abbiamo una sorta di imbuto quando ci troviamo di fronte alle specializzazioni, molti medici laureati non trovano spazio nel numero delle specializzazioni a fronte di un sistema sanitario che avrebbe invece bisogno e necessità di numerosi medici in più soprattutto in alcune particolari specializzazioni. Quindi cerchiamo finanziando 21 borse aggiuntive, cerchiamo proprio di colmare, di dare una mano nei limiti del possibile e nei limiti delle risorse della regione toscana a questo gap che si manifesta tra coloro che si laureano e coloro che possono entrare in una specializzazione. Noi siamo convinti e su questo abbiamo sollecitato anche come Commissione Salute i ministeri che serva una nuova programmazione su questo fronte, sul fronte delle specializzazioni anche perché altrimenti davvero corriamo il rischio in futuro nel momento in cui molti medici andranno in pensione di non avere giovani specializzati pronti a sostituire i pensionati oppure o comunque pronti a gestire le strutture sanitarie della nostra regione. È uno dei punti sui quali bisogna certamente lavorare di più. Oggi è sempre più importante prevenire piuttosto che curare, non solo per la salute delle persone che naturalmente è la prima cosa che ci interessa ma anche in relazione ad una migliore gestione delle risorse in campo sanitario. Noi abbiamo lanciato una grossa campagna di vaccinazione ancora prima che venisse, entrasse in vigore la legge nazionale sulle vaccinazioni obbligatorie anche in Toscana avevamo preparato una proposta di legge sull'obbligatorietà delle vaccinazioni ma abbiamo fatto campagne informative, ricordo la campagna Dammi un vaccino ne stiamo facendo altre per la vaccinazione degli adolescenti proprio per prevenire anche malattie molto pesanti oggi abbiamo vaccini importanti anche per prevenire malattie oncologiche soprattutto destinate agli adolescenti e su questo io credo che sia importantissimo lavorare e lavorare di più ma non solo prevenzione sotto il profilo degli stili di vita e delle vaccinazioni ma prevenzione anche sui luoghi di lavoro anche questo è stato uno degli obiettivi più importanti che abbiamo tentato di rafforzare in questa prima parte della legislatura attuando dei piani specifici per i settori considerati più a rischio penso al tema delle cave di marmo, penso ai lavoratori dei porti penso ai lavoratori nell'edilizia penso a tutti i settori nei quali è necessaria una forte alleanza tra datore di lavoro e lavoratori per evitare che il lavoro sia un'occasione di danno o di morte e non veramente un'occasione di riscatto e di realizzazione personale a tutti i settori